L'Avvento con Maria Santissima di Francisco Fernandez Carvajal Lo spirito dell'Avvento consiste in buona parte nel vivere vicino alla Vergine che in questo tempo porta in seno Gesù. La nostra vita è anch'essa un avvento un po' più lungo, un'attesa del momento definitivo nel quale ci incontreremo infine col Signore per sempre. Il cristiano sa che questo avvento deve viverlo insieme alla Vergine tutti i giorni della sua vita se vuole garantirsi con certezza l'unico successo che conti nell'esistenza, incontrare Cristo in questa vita e poi nell'eternità. E per preparare il Natale ormai vicino non c'è niente di più opportuno che accompagnare in questi giorni Maria, stando con lei con più amore e confidenza. La Madonna accresce nella nostra anima la Letizia perché la confidenza con lei ci porta a Cristo. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Luca 1, 78-79. Gesù è il sole che illumina la nostra esistenza, tutto quanto si riferisce a noi se vogliamo che abbia senso deve far riferimento a lui. La vita della Vergine in modo davvero speciale e straordinario è incentrata in Gesù in maniera singolarissima in questa attesa della nascita di suo figlio. Possiamo appena immaginare il raccoglimento della sua anima così è vissuta sempre e così dobbiamo imparare a vivere noi troppo spesso disattenti e distratti da cose che non hanno importanza. La Vergine custodisce e medita. Ben conosce il raccoglimento interiore dove è possibile valutare e osservare i fatti grandi e piccoli della vita. Nel suo cuore arricchito nella pienezza di grazia regna l'armonia originaria nella quale l'uomo fu creato. Nessun altro luogo è più adatto a conservare e a considerare l'eccezionale creazione divina nel mondo della quale lei è testimone. Dopo il peccato originale l'anima umana ha perso il dominio dei sensi e l'inclinazione naturale verso le cose di Dio. Nella Vergine non fu così, per noi sì. In lei essendo stata preservata dal peccato originale tutto era armonia come agli inizi. Inoltre era abbellita dalla presenza del tutto singolare e straordinaria della Santissima Trinità nella sua anima. Noi oggi le chiediamo di concederci il raccoglimento interiore necessario per vedere Dio ed entrare in intimità con Lui accorgendoci di quanto è vicino anche alla nostra vita. La devozione alla Vergine è la migliore garanzia di ottenere gli aiuti necessari e la felicità eterna alla quale siamo stati destinati. Maria è davvero porto dei naufraghi, consolazione del mondo, liberazione dei prigionieri, salute degli infermi. Sant'Alfonso Maria degli Guori. Chiediamole di sapere attendere in questi giorni che precedono Natale e sempre, pieni di fede in suo figlio Gesù Cristo, il Messia annunciato dai profeti. Vi riusciremo guardando a lei che sulla terra brilla ora innanzi al pellegrinante popolo di Dio, quale segno di sicura speranza e di consolazione fino a quando non verrà il giorno del Signore. Grazie a tutti.